L'evento Piazza MEC, organizzato da Cluster AirMEC, è stato veramente molto interessante. Lo possiamo vedere sia nell'ottica del networking, perché direi che l'audience che c'era è soprattutto molto professionale e indicata al settore in cui operiamo noi, quindi l'ho ritenuto un appuntamento veramente interessante e credo foriero di possibili sviluppi positivi in futuro.